Quando la rugiada scende sui campi arati, permette al seme di germogliare e di portare i suoi frutti. La rugiada è la vita che permette al seme di essere. La rugiada è acqua e l'acqua è una delle manifestazioni dello Spirito, rende possibile la crescita. La parte da dare a Cesare è quella del raccolto al quale tutti possono partecipare. La parte da dare a Cesare è la parte materiale della quale si fa ricchezza in terra. La parte di Dio è il seme. La parte di Dio è quella che non si può né comprare né vendere, perché il seme in potenza è Dio. A seconda di come coltiverete il seme di Deità che contenete, così manifesterete una crescita che darà i suoi frutti. Quindi date alla parte materiale della vostra esperienza quello di cui necessita e alla parte di Dio la vostra riconoscenza. Riconoscere Dio è dare a Dio quel che è di Dio.